ciao a tutte e benvenuti nel mio canale fantasia di uncinetto oggi vi presento un video un po particolare un video in cui diciamo inizio una sorta di scuola di uncinetto per principianti per chi magari non ha ancora mai entrata in questo mondo e vuole cimentarsi nell'arte dell'uncinetto quindi iniziamo proprio con le basi vi consiglio prima di tutto un filato con cui cominciare come iniziare e un uncinetto allora il filato che vi consiglio è un filato né troppo fine che fareste parecchia fatica perché all'inizio non avete ancora la manualità e quindi un filato fine è più complicato diciamo da gestire all'inizio ma nemmeno un filato troppo grande perché poi è vero che magari all'inizio è più semplice perché vedete meglio i punti perché comunque si lavora meglio però poi fareste fatica successivamente a riprendere un filato più piccolo quindi io vi consiglio un filato medio che quello in questo caso è il numero 3 un filato numero 3 allora un filato numero 3 richiede un uncinetto numero 3 ma potete anche utilizzare un 3 e mezzo o un 2 e mezzo a seconda poi dopo vedrete la vostra mano come se tende a tirare il lavoro oppure a lavorarlo lento quindi ecco l'uncinetto in questo caso corrisponde 3 con 3 ma in realtà non è che ho un filato numero 2 o un uncinetto numero 2 perché nel filato più il numero è alto più il filo è fine mentre nell'uncinetto nelle misure perlomeno che si trovano in Italia è il contrario quindi più ho un uncinetto con numero grande e più è grande ecco quindi uno va in un senso e uno nell'altro quindi una volta scelto il filato una volta scelto l'uncinetto dobbiamo vedere come tenere questo questo arnese insomma questo uncinetto io vi faccio vedere come lo tengo io in pugno uso per tenerlo l'indice e pollice quindi appoggio l'uncinetto sopra l'indice in questo modo e con il pollice lo tengo fermo ok un po' come si tiene una penna a scuola insomma e questo per esempio questo uncinetto è ergonomico quindi è anche semplice da impugnare perché c'è proprio la forma insomma adatta che ti fa vedere dove mettere le dita quindi in questo modo ok poi c'è da vedere come tenere il filo anche qui ci sono tantissimi modi tantissimi modi tenerlo io vi faccio vedere come è stato insegnato ormai 30 anni fa dalle suore mi hanno insegnato in questo modo quindi appoggio il filo sempre sopra l'indice come con l'uncinetto quindi appoggio il filo che finisce davanti quello che è continuo poi verso il gomitolo va dietro ok quindi e con il pollice tengo il filo le altre dita lo tengono fermo ma non devono tenerlo stringere altrimenti poi non scorrerà il lavoro devono fare un po' il gioco di allentare e stringere in modo man mano che ci serve tirare il filo per lavorarlo si allenta un po' e per far scorrere il filo insomma quindi la difficoltà iniziale è soprattutto tenere il lavoro e giocare un po' questa presa per far scorrere bene il filo ok quindi ecco dovete esercitarvi ora per prima cosa andiamo a vedere poi come come si fa il gappio iniziale che poi è il titolo di questo di questo video quindi si può fare pure qui in vari modi io vi insegno come lo faccio con l'uncinetto e poi faccio vedere se avete difficoltà come farlo con le mani con l'uncinetto allora come vi ho spiegato prima appoggio il filo sull'indice con l'uncinetto vado sotto il filo che mi rimanga in questo modo faccio fare in giro di 90 gradi più o meno e vado di nuovo sotto al filo nella parte in cui finisce quindi davanti prendo il filo praticamente prendo questo filo qui farlo vedere lentamente più difficile e lo porto dentro ve lo faccio rivedere un pochino più velocemente ma forse è più comprensibile quindi vado allento anche un pochino vado sotto passo davanti sotto al filo prendo il filo dietro che va verso il gomitolo tiro dentro alla gappietta il filo dentro la gappietta tiro fuori e stringo faccio vedere un'ultima volta ecco qua questo è il mio metodo con l'uncinetto ora vi faccio vedere invece il metodo con le mani allora sempre facendo passare il filo intorno al dito passo incrocio in questo modo allargo un pochino il cerchietto insomma il gappietto che si è formato intorno al mio dito passo sotto con l'indice dell'altra mano prendo il filo e la mano si stacca dal filo ma prende con quello che finisce quello che va verso il gomitolo e tiro da tutti e due versi e poi stringo da stringo il gappietto ecco qua lo metto nell'uncinetto e siamo pronti a partire a partire Grazie a tutti.